E anche Brozovic va in Arabia Saudita all'Al Nasr per 23 milioni di euro, percepirà 20 milioni a stagione, quindi dopo Benzema, Kanté, Koulibaly, Ziyech, Mendy e chi più ne ha più ne mette, perché veramente si stanno accaparrando di tutti i trentenni, i trentacinquenni delle big europee praticamente. Va anche Brozovic in Arabia Saudita, anche questa è una notizia che non mi aspettavo minimamente, mi aspettavo una partenza di Brozovic, sì perché l'Inter aveva bisogno di far cassa e Brozovic era uno di quelli più indiziati a partire, perché comunque è un classe 92, aveva ancora un prezzo abbastanza elevato, anche se 23 milioni mi sembrano un po' pochini, mi aspettavo una cifra maggiore di circa 30-35 milioni, invece va in Arabia Saudita per 23 milioni, percepirà uno stipendio incredibile. Qualcuno fermi questi arabi, perché veramente più passa il tempo e più si va in quella direzione dei soldi in Arabia. Ragazzi, Brozovic è un classe 92, per me è fortissimo e poteva tranquillamente giocare, almeno dal mio punto di vista, ancora in quasi tutte le big europee. Invece ha scelto questa strada di praticamente andare a prendere i soldi in Arabia, certo l'offerta è clamorosa. Ragazzi, queste sono notizie abbastanza tristi dal mio punto di vista. Mi dispiace perché comunque il calcio europeo perde un altro calciatore che per me è veramente forte, che negli ultimi anni si è consolidato a un livello altissimo e quindi vediamo quali saranno i prossimi colpi di questo tipo che verranno ufficializzati dalla Arabia Saudita. Fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un like se volete vedere altri video sul calciomercato e ci vediamo nel percorso.